Nella prossima puntata le nostre coppie continueranno il viaggio all'interno dei loro sentimenti. Troveranno le conferme che cercano sulla loro storia d'amore. Non pensa minimamente che io possa vedere determinate cose. Non si sta rendendo conto di quello che sta facendo e sta facendo un grosso errore. Io vorrei semplicemente avere l'emozione che mi ero tu di avere. Lei mi vede sempre come ragazzo senza personalità, forse perché non gli vado bene, non lo so, ma io sono completamente diverso da quello che descrive lei. Si è completamente scordato che dall'altra parte c'è una fidanzata.